salve community bentornati nel fvers come da programma è arrivato il secondo trailer di joker foliad vi dico che il primo vi dico che il primo trailer non mi aveva fatto impazzire e per quanto riguarda il primo film io sono uno di quelli che pensa che sia un ottimo film ma un pessimo cinecomic quindi dipende sempre da come la volete leggere però per quanto riguarda questo secondo sto cercando in tutti i modi di sforzarmi nonostante il primo trailer mi abbia fatto un po gridare al more of the same in certi frangenti senza contare alcuni scampoli di trama insomma ho bisogno di qualcosa che riesca a convincermi questo secondo trailer dura due minuti e 47 bello corposo e a questo punto guardiamolo 3 2 1 via ok salto temporale due anni di martire sei bravo figlio mio però con sta cosa va vai fan che bravo sei un deficiente però vai fan c'è frasi da cioccolatino io spero che i dialoghi saranno un po più originali mamma mia quanto è magro c'è della dell'atmosfera comunque dell'identità questo va detto il personaggio di glison ok va bene ormai l'anarchia c'è questo simbolo non so come abbia fatto ad ispirare le persone però effettivamente eppure al processo quindi vince quindi lo lo scarcerano di che stiamo parlando e certo ovviamente lo devono torturare perché lui è una una vittima della società di disprezzarmi a nessuno di voi ancora piange di nuovo pure al processo ci dobbiamo vedere sta ma noi siamo certi che questa sia tutta una visione è una visione comunque è tutta follia diciamo che si vedono delle cose un po spoiler rose vabbè questa è tutta una cosa una follia loro va bene ok ok va bene allora vi dico che il trailer mi è piaciuto molto più del secondo sì è vero c'è più roba questo è molto più narrativo in un certo senso non ti fanno capire molto della trama nemmeno sull'ambiguità se tutto questo sarà una visione di arthur e di harley quindi una follia condivisa oppure quello che succede succede veramente quindi grazie al sostegno della gente arthur diventa un martire e viene scagionato e questo lo porta a mettere in scena un suo show insieme ad harley e quindi poi va a finire che distruggono tutto e uccidono tutti il trailer presenta tanti momenti complice anche la scelta della colonna sonora dei momenti che riescono a sottolineare bene quanto sia quanto sia pregno di identità faccio appugni con le sensazioni ci sono dei momenti in cui mi convince veramente tanto del resto più joaquin phoenix di lady gaga per me lady gaga è lo stesso personaggio di a star is born però dopo che gli è andato tutto in malora per me è uguale però ho a king phoenix vederlo sullo schermo non puoi dire ok robetta non è assolutamente robetta lo vediamo ancora una volta maltrattato dalle forze dell'ordine lo vediamo al processo che dice non permetterò mai più di maltrattare insomma è un joker piagnone da questo punto di vista e torniamo sempre al discorso sono ancora combattuto non vedo l'ora di vederlo ma allo stesso tempo devo sempre distaccarmi perché joker è uno dei miei villain preferiti e ogni volta che si parla del joker di phoenix c'è qualcosa che mi butta fuori violentemente quindi vorrei semplicemente che sia un film ad alto budget perché ci hanno speso molti più soldi del primo che semplicemente vada a confermare questi buoni propositi dico promuove il trailer tranne alcuni momenti in cui è palesemente more of the same è lui truccato che si muove e loro sulla scalinata e c'è pure Lady Gaga ci sono quei momenti in cui gioca davvero facilone e altri invece in cui davvero sembra dare una pista a tutti ovviamente qualcuno nei commenti arriverà e dirà ma facilone perché si può giocare facilone con altri film invece joker non se lo può permettere perché purtroppo joker ce lo stanno spacciando come un film che non è in realtà un cinecomic e il pubblico su cui va a ammirare è un pubblico che mi dispiace dirlo ma anche sondando il terreno sui social è quel tipo di pubblico che dice bravo coglione vai a vedere Avengers io invece mi sto andando a vedere un film incredibilmente serio e pregno di contenuto poi staremo a vedere nei fatti un'altra cosa del trailer che va a confermare le brutte sensazioni del primo riguarda queste frasi da cioccolatino che queste frasi fatte che veramente zero impegno che manco nelle commedie romantiche quelle tipo di serie B avete presente quelle che fanno a Natale a ripetizione uguale quindi questo mi allarma io voglio sapere la vostra ditemi la vostra per il resto comunque vedete come sono combattuto adoro queste atmosfere si rifà tantissimo all'atmosfera del primo film ma anche i trailer del primo film se andate a vedere i primi trailer sono praticamente uguali tant'è che c'è una sequenza dove Arthur scappa e la ripropongono pure in questo trailer oltre che nel primo che sembra una scena del primo film questo un po' mi... non lo so perché c'è proprio un climax grammaticale nel trailer che vede Arthur correre sia nei trailer del primissimo film che anche nei trailer del secondo non so se sia voluto o se sia un modo per ripercorrere la sua psiche poi scopriremo però se c'è una cosa su cui non voglio in alcun modo illudere o nemmeno giocare sull'overthinking cercate di andare a vedere questo film e cercate di godere di quello che racconterà non andate a cercare sovralletture come il primo film perché vedo che molte persone provano una fascinazione per il primo film su cose che in realtà non ci sono quindi restiamo con i piedi per terra io spero di vedere un ottimo film non riesco a capire come la gente sia riuscita a costruire un simbolo da un imbecille come Arthur Fleck però magari il film riuscirà a costruirtelo in un certo modo perché c'è un gap di due anni magari tramite un montaggio ti farà capire alcune cose e te lo renderà anche un po' credibile vediamo altre sequenze un po' di musico loro che cantano quanto saranno presenti le canzoni io me le aspetto del resto se hanno tutto quel budget come dicevo per il primo trailer e tutto per le scenografie che altro dire va bene così questa è una reaction flash magari ne parleremo in live io voglio sapere la vostra ditemi questo trailer vi ha convinto per me è migliore del primo trailer e diciamo che c'è un briciolo di me che vorrebbe davvero fruire di questo film e divertirsi scoprire che magari il secondo film entrerà nelle grazie nelle mie grazie più del primo che comunque ripeto non è un bruttissimo film solo che tutto quello che alleggia attorno alla produzione al fatto che abbiano usato Joker quando invece è un film che poteva tranquillamente essere la qualsiasi un po' mi dà fastidio non doveva nemmeno esistere questo sequel esiste quindi ha detta di chi ci ha lavorato quindi non era un cinecomic non era seriale non era niente invece è un cinecomic a tutti gli effetti speriamo che riusciranno a fare pace da qui fino all'uscita del film per il resto ditemi voi se questa mini reaction vi è piaciuta vi chiedo di lasciarmi un like iscrivervi al canale sono aperti gli abbonamenti venite a fare gli insider nell'Efevers e probabilmente troverete anche qualcosa su Joker 2 detto questo io vi ringrazio come sempre vi ringrazio per il supporto e non dimenticate di commentare qua sotto noi ci rivediamo con un prossimo video e Filippo F chiude